Adesso ultimamente credo che la regola più esplosiva sia quella dell'acchitarre il pallino. Adesso l'acchitarre vuol dire dare inizio al gioco per chi non è del settore, magari non lo sa. La federazione cosa ha messo in atto? Per rendere più esaltante questo gioco perché tutti gli sport hanno un momento che è più esaltante degli altri nella competizione. E magari uno dei momenti più esaltanti è proprio la bocciata di partenza. Cosa succede? Succede che acchitando il pallino come lo fa la federazione dove uno è libero, va lì, mette sul pallino, non può sbagliare l'acchito del pallino e facilita l'esecuzione. Facilitando l'esecuzione, che poi è anche aiutata dallo strumento biliardo senza bucche, che ha un'altra tipologia di sponde che su questo tiro agevola, allora l'uno e l'altro danno delle grosse differenze di realizzazione. Grazie a tutti!